Buongiorno da Gilda TV, si è appena concluso l'incontro tra i sindacati e il governo a Palazzo Chigi, come avete letto dal titolo lo sciopero è stato revocato perché sono stati raggiunti gli obiettivi che avevano determinato la dichiarazione di sciopero unitariamente da parte di tutti i sindacati. Cioè gli scatti d'anzianità e le 24 ore che sono rientrate, ma sentiamo dalla viva voce del coordinatore nazionale Rino Di Meglio come sono andate le cose. Ok, allora, ieri sera siamo stati convocati come sindacati all'improvviso, prezzo alla presidenza del Consiglio dei Ministri, dal sottosegretario Cateri Tralà, che era presente questa mattina assieme al ministro Brufumo, al ministro Grilli e al ministro Patroni Griffi. Ci hanno dato lettura dell'atto di indirizzo per il ricopero degli scatti d'anzianità del 2011. Abbiamo preso atto che era esattamente ciò che noi avevamo concordato il 12 giugno con il ministro Profumo e ciò che avevamo richiesto. Abbiamo constatato che la nostra versione si basava fondamentalmente su due obiettivi che sono stati raggiunti. Il primo obiettivo era il ritiro del provvedimento sull'aumento dell'orario degli insegnanti, obiettivo che è stato raggiunto l'altro ieri con il voto definitivo della Camera dei Deputati. Il secondo obiettivo era ottenere la restituzione degli scatti d'anzianità del 2011. Da pochi giorni si aprirà l'Aran la trattativa su questo argomento. A questo punto noi abbiamo ritenuto di dover sospendere sia lo sciopero sia la manifestazione di sabato prossimo.